Sei tu? E io chi sono? E tu chi sei? E lui chi è? E voi chi siete? Cosa sei? Dimmi chi sei? One Way, questo è in inglese anche, da dove vieni? One Way, solo One Way, hai parlato solo questo, hai preso il corso in inglese Dove siamo? Chi siamo? Allora, ti dico, siamo al convento di Lonato Ok, ci sei? Allora, questo video sarà proiettato sul sito del convento di Lonato, sei d'accordo? Oh, yes! Yes, yes! Oh, yes! Yes, Mr. Dave! E adesso, yes, Mr. Dave! E adesso, dimmi, quello fa dei gesti così, ecco, e dimmi che cosa siete qua a festeggiare? Eh, noi! Eh, questo è importante, ma voi chi siete? Identificati! Novelle! Cos'è? Novelle! Siete delle novelle? Patate! Le patate novelle! Abbiamo le patate novelle! Finalmente abbiamo un esemplare di patata novella! Ecco, ci siamo sempre chiesti come saranno fatte le patate novelle! Ecco, signori, guardate qua! Ecco, questa è proprio, è sbocciata questa patata novella! Fantastica patata novella di nome? Lalla! La lalla! La patata novella lalla! Proprio una cosa, non sciogli lingua! Uno quando vi conosce deve avere per forza una sciogli lingua da fare con voi, con le patate novelle! Ma ha tanto contenuto di selenio? Penso molto... Meglio della selenella! Meglio della selenella! Cioè, cos'è una malattia la selenella, no? Una patata! Ah, una patata! Che lei si intende di patata, chissà perché! Ecco, giustamente! Fammi la faccia da intenditrice di patata! Perfetto! Ok, allora, così, ma da dove venite hai detto? Novelle! Ah, Novelle esiste allora! Che è in provincia di? Eh, Brescia! Novelle, provincia di Brescia, un paese pieno di patata in pratica! Perfetto, esiste la classe... Strano che Sandrino! Strano che lo conosco, voglio diventare... Sandrino! Voglio diventare il sindaco di... Eh, dai, da Brescia però... Mi candido come sindaco di patata Novelle, ecco, ecco, mi voti? Ovvio! Hai preso il voto, così io prendo i voti! Che io! Che sono un altro... Cos'è che va? Ah, c'è il saluto ufficiale di Novella! Io voto Sandrino, eh! Fantastischio, io voto la patata, eh, Novella! Eh, ecco, saluto... Vieni qua a fare il saluto ufficiale, dov'è? Torna! Vieni qua! Ecco, anche voi, eh... No, chiamala, chiamala, come si chiama? Giulia! Giulia, vieni qua un attimo! Giulia, vieni qua! Ecco, signore e signori, facciamo vedere Giulia che fa il saluto ufficiale di Novelle! Ecco qua, a Novelle si salutano tutti così! E questi sono i ragazzi, vero? Ciao ragazzi, fatemi un urlo, fatemi un saluto! Attenzione, quelli si novellano da soli! Ecco qui! Abbracciatevi tutti, abbracciatevi, ecco, ancora con questi saluti, eccoci siamo, questi sono i ragazzi e le ragazze, di Novelle, sì, mitico Novelle, ciao! E' un paese? Ciao!